Emilio Del Bono, candidato sindaco per Brescia, ha incontrato i residenti dei quartieri di Fornaci e Villaggio Sereno per un confronto diretto, mostrare un bilancio sul lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione, ma anche per proporre idee sul futuro della città. In questi anni abbiamo avuto una grandissima attenzione per i nostri quartieri. Tutti i quartieri hanno potuto godere di alcuni interventi che sono andati o verso le manutenzioni o verso la realizzazione di piste ciclopedonali, pensate alla nuova ciclabile completata che va dalle Fornaci fino al Villaggio Sereno. Sostegno anche alla realizzazione di alcune sale di quartiera, le Fornaci abbiamo aperto in collaborazione con la parrocchia, il nuovo teatro, il restyling del nuovo teatro molto utilizzato. Stiamo lavorando per garantire del trasporto pubblico sempre più efficiente in questa zona, proprio perché grazie agli investimenti che faremo sul tram di superficie, che andrà a coprire la zona ovest e una parte della zona sud, qui potremo rafforzare, laddove non arriverà il tram di superficie, anche la rete su gomma, proprio rendendo sempre più efficiente i servizi. Abbiamo messo delle nuove postazioni di bici mia, proprio per permettere anche la fruizione di questo strumento bellissimo, che ha permesso di passare da 10.000 a 21.000 abbonati di bici mia e poi dobbiamo lavorare molto sui servizi alla persona. Il nostro obiettivo è realizzare una casa famiglia per anziani per ogni quartiera e contemporaneamente rafforzare i servizi domiciliari e di sostegno ovviamente agli anziani, ma non solo, anche alle persone con fragilità. Abbiamo lanciato questa proposta molto concreta, che è quella dei doposcuola gratuiti per tutte le famiglie, che siamo in condizioni di sostenere finanziariamente, e di rafforzare sempre di più i servizi per l'infanzia. Oggi negli asini nido è possibile non pagare per i cittadini per un'ISA sotto i 20.000 euro. Abbiamo proposto di alzare l'ISA a 25.000 euro, in modo tale che la fascia di bambini che possano usufruire a titolo gratuito degli asini nido cresca e si allarghi e si ampli. Devo dire che in questi anni qualche passo importante avanti è stato fatto. Siamo passati dal 19% di fruizione dei servizi per l'infanzia a quasi il 30% di adesso. Quindi è un lavoro costante. Quello che dobbiamo fare è anche quello di continuare a governare bene questa città, a mantenere il bilancio solido, a garantire i servizi pubblici di qualità, a manutenere il verde, a avere attenzione per i marciapiedi, per le strade. Questo è il lavoro quotidiano, ma che ha anche una visione. La visione è quella di una città che cresce, che si sviluppa, che cresce demograficamente, ma che diventa sempre più capitale della sua provincia.